Ciao a tutti, mio nome è Daniel e oggi ti prenderò nel cervello del nostro sistema di cleanamento. Iniziamo! Le soluzioni di gerotto sono certifiche per la zona 1 e ci dà la possibilità di controllare il robot dalla zona di controllo e di sostenere l'acquipamento. Ma le migliori funzioni sono dentro la zona di controllo. Questo è il cervello del nostro sistema. Venite e guardate! Monitore, sensore, PLC. Da qui puoi avere il controllo completo del sistema. Questa è la soluzione se hai bisogno di più sicurezza, efficienza e produttività nelle vostre attività quotidiane. Seguite il hashtag NoMoreRisk on LinkedIn per scoprire più dei prodotti di gerotto.